A Camposcolano cresce la preoccupazione tra i residenti per la notizia ancora non ufficiale di una futura chiusura totale alla viabilità di via Litorania. Dallo scorso 18 aprile la strada, che collega Pomezia con Ostia, è stata fortemente limitata per via di alcuni lavori necessari per risolvere alcuni problemi strutturali sui ponti. Il problema si creerà per tutti coloro che devono lavorare percorrendo questa strada, andare a scuola, raggiungere il Grassi per esempio, un'ambulanza che deve passare, un camion dei Vigili del Fuoco che ha un incendio perché qui c'è tanto verde quindi potrebbe esserci un incendio. Che cosa succede a livello di disagio e a livello di sicurezza? Il giro possibile sarà solo quello di passare attraverso la pontina e utilizzare la Cristoforo Colombo o la Via del Mare ma stiamo parlando di una follia. Noi abbiamo fatto una riunione con la sindaca il 25 giugno e loro ufficialmente all'epoca non sapevano nulla. Se ci dicono come ci dobbiamo comportare perché i ragazzi vanno a scuola, c'è l'ospedale di Ostia, molta gente si cura là. Come facciamo? E sono tutte domande a cui aspettiamo risposta. Comunque il traffico su questa strada è bestiale, ce n'è tanto, la strada è tutta rotta e noi siamo in sofferenza. È un quartiere ghettizzato, siamo chiusi, non abbiamo altri mezzi, altre strade per arrivare a Ostia, alla metropolitana, per chi lavora, per chi studia, per l'ospedale perché qui non abbiamo niente. I ponti devono trovare il modo, il sistema di poterli fare facendo anche passare le macchine. Non devono togliere neanche lo 07 perché è l'unico auto che ci porta alla metropolitana o a Ostia. I mezzi per andare a Roma sono scarsissimi, oltre al fatto che spesso si infilano nelle vie quando c'è stato il traffico grande, senza sapere che è pieno di vie chiuse e vanno a una velocità grande, ci sono stati bambini con le biciclette che insomma hanno rischiato. In merito è intervenuto il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola. La messa in sicurezza dei punti critici obbligherà un intervento infrastrutturale importante che sarà eseguito al termine della stagione balneare. Lavoreremo già dalla prossima settimana per capire se e come sarà possibile utilizzare la litoranea o se necessiteremo di una soluzione alternativa temporanea fino al termine degli interventi obbligatori sui ponti segnalati nell'ordinanza.